In partenza la grande riqualificazione urbanistica e infrastrutturale del quartiere Torre di Pordenone. Si articolerà in diversi cantieri per concludersi a fine 2020. Il piano è stato presentato ai residenti dal sindaco Alessandro Ciriani e dall'assessore Cristina Mirante. Sindaco, gli obiettivi di questo grande intervento? Sono quelli intanto di dare una risposta attesa da tanto tempo dai residenti di Torre. C'è quello di riqualificare Via Piave, che è la strada principale che da Cordenone porta in centro a Pordenone, le zone limitrife. Quelli di dare una risposta ai bisogni di ciclabilità e di sicurezza dei pedoni. Oggi la strada è sostanzialmente impercorribile, di fare nuova illuminazione e poi anche una risposta ambientale. Penso alla captazione delle acque meteoriche e alla sistemazione del sistema fognario. Inoltre nuove asfaltature, quindi un nuovo look, una nuova versione che riguarderà Via Piave, ma ripeto, anche delle zone limitrife. È un investimento di più di 10 milioni di euro che si collega poi al quadro complessivo di opere che il Comune di Pordenone porterà non solamente in questo quartiere, ma anche negli altri quadranti della città. I cantieri saranno tanti e ci saranno disagi? Chiedo anche comprensione, cioè non conosco sistemi per poter portare tutte queste opere e questi servizi se non facendo cantieri che creano disagi, ma faccio sempre il paragone della ristrutturazione di una casa. Se uno deve mettere a posto casa, chiamerà i muratori, gli idraulici, i quali romperanno il bagno, il salotto. Ci saranno dei disagi anche lunghi, ma sono finalizzati poi a rendere la città più accogliente, il quartiere più moderno e più rispondente alle esigenze che gli stessi abitanti di Torre ci hanno segnalato con i questionari raccolti in questi mesi. Si interverrà prima su Via San Valentino, poi su Via Piave e successivamente nel Via Interne di Torre, dove verranno create zone a 30 km orari. Gli interventi sono di rifacimento completo e di realizzazione ex novo di fognatura, acquedotto, acque meteoriche, lungo tutta Via San Valentino e Via Piave, la realizzazione di una pista ciclabile a norma di legge bidirezionale, due marciapiedi belli larghi e la strada finalmente riqualificata e riasfaltata. Poi ci sono tutte le zone 30, a nord e a sud di questo asse principale, che andranno a realizzare tramite sensi unici, tramite nuova segnaletica, pavimentazioni, luci e tutto quello che serve a cambiare proprio il modo di affrontare queste strade, dove la precedenza e la prevalenza di spostamento sarà di pedoni e biciclette. Quando e dove partirà il primo cantiere? Il primo cantiere partirà i primi di febbraio in Via San Valentino, nel tratto che va fino a quello che è il parcheggio dei sindacati, e in tutto il quartiere San Valentino, quindi Via Monte Pelmo, tutte quelle vie laterali. Quel cantiere sarà un cantiere di fognatura seguito da Idrogea, dura circa 300 giorni, quindi fino alla fine dell'anno. Successivamente, alla fine di quest'anno, partiranno i lavori di realizzazione della fognatura di Via Piave, quindi dalla Ponte Banna, diciamo, arriviamo fino al confine con Cordenons e seguiranno nel 2020 i lavori del Comune, quindi il rifacimento dell'asfaltatura e di tutto quello che ci sta sopra, compresa l'illuminazione pubblica, la fibra e anche il Wi-Fi. Un'ultima domanda riguardante il primo cantiere, la viabilità? Allora, la viabilità non subirà grandi modifiche perché la Via San Valentino avrà garantito il doppio senso. Se ci saranno piccole interruzioni, saranno comunque con senso unico alternato. All'interno del quartiere di San Valentino ci saranno delle piccole interruzioni, però siccome le strade, diciamo, sono ben collegate una con l'altra, ci saranno ovviamente un sistema di sensi unici che consentiranno a tutti di entrare e uscire a casa.